benvenuti al museo dei pc un viaggio nel tempo che porta con sé la domanda perché non sono come gli smartphone di qua eccoci antichi disegni no password wifi usate prima del 5g i pc più potenti erano così grandi e pesanti o non toccare per favore perché no non sono touch screen inutile che è quello sei tu in una videochiamata di un vecchio pc guarda qui ecco a voi un film sui vecchi display dei pc sotto un sole splendente non si vede esatto proseguiamo e ora preparate state per sentirvi come una vecchia batteria di un pc che cade l'ho condiviso al volo con tutti voi ai miei tempi dovevi mandartelo per email beh per fortuna con galaxy book è cambiato tutto